Maria Mirzakhani è iraniana, studia geometria iperbolica e ha appena vinto a Seul la medaglia Fields, sorta di Nobel per la matematica, e la prima donna a vincere questo importante riconoscimento e ci sono voluti i 78 anni. Nata a Teheran, naturalizzata americana, si fa notare da giovanissima, a 17 anni vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica di Hong Kong e bis a Toronto l'edizione successiva, sino al successo di quest'anno.